Ad alta velocità, più di 200 km orari, sulla statale in direzione Brindisi a bordo di un Audi A6. Una battuglia dei baschi verdi del gruppo pronto impiego della Guardia di Finanza di Pari nota il veicolo insospettita si lancia all'inseguimento. Raggiunto e fermato il mezzo durante il controllo, le fiamme gialle trovano gli occupanti in possesso di due Kalashnikov modello AK-47 di fabbricazione sovietica, 92 cartucce calibro 7,62 da guerra e tre caricatori nascosti nel portabagagli all'interno di una scatola di cartone. A finire in manette il 55enne Brindisino Carmelo Semeraro, pregiudicato, che guidava l'Audi e Giovanni Ciccarone, 48enne, entrambi residenti ad Ostuni. L'Audi è stata intercettata all'altezza di Monopoli ed è stata fermata poco prima dell'uscita per Torre Canne. Nel particolare le armi erano nascoste all'interno di un compressore d'aria chiuso in uno scatolone di cartone. Le chiusure della bombola del compressore erano insolitamente costituite da fascette metalliche che una volta smontate hanno rileverato all'interno della bombola le armi. Due Kalashnikov modello AK-47 di fabbricazione sovietica, 92 cartucce calibro 7,62 da guerra, tre caricatori ed anche 3.000 euro in contanti. I Kalashnikov sequestrati sono risultati modificati privi del calcio per rendere l'arma più maneggevole e più facile da nascondere. I due arrestati sono stati trasportati nel carcere di Brindisi, mentre l'armamento da guerra, l'autovettura e il contante sono stati posti sotto sequestro. I Kalashnikov